È stato presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze il rapporto INA il 2017 sugli infortuni sul lavoro in Toscana. Nelle immagini vedete la tavola rotonda a cui ha partecipato il Presidente della Regione Enrico Rossi a preoccupare a fronte del calo dell'1,21% rispetto al 2016 sono gli infortuni mortali che nel 2017 sono rimasti a quota 77 come l'anno prima e che nei primi nove mesi del 2018 sono stati 61. Nel 2018 si chiude con una mortalità in crescita che non va bene però abbiamo posto basi importanti e fatto iniziative perché il tema del lavoro e della sicurezza del lavoro del diritto dei lavoratori di poter tornare a casa integri per poter reintegrare le loro forze e il giorno dopo vendere di nuovo la loro attività, la loro forza lavoro sia completamente e pienamente affermato. Per questo è stato anche illustrato il piano operativo 2019 per la sicurezza del lavoro nato dal protocollo d'intesa dell'aprile 2018 che ribadisce la necessità di un raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro per abbattere gli infortuni costruzioni, logistica e agricoltura ai settori in cui è più urgente intervenire e le cose cambiano da azienda ad azienda. Quello che risalta in modo particolare è che le grandi aziende sono attrezzate e quindi quello che hanno bisogno di essere accompagnati sono le piccole e medie aziende e è lì che dobbiamo fare uno sforzo indifferente per intensificare queste azioni. Le denunce di infortunio nel 2017 in Toscana sono state quasi 50.000 la quantità complessiva di infortuni denunciati corrisponde al 7,72% del totale nazionale 8.000 circa le aziende che ogni anno in Toscana sono controllate dall'ispettorato del lavoro. Abbiamo delle percentuali piuttosto elevate ma assolutamente in linea di irregolarità intendo assolutamente in linea con il dato nazionale solo per dare un po' di numeri circa 5.000, nello scorso anno circa 5.000 lavoratori irregolari di questi una percentuale vicina al 50% completamente sconosciuta dalla pubblica amministrazione. Il piano operativo della Toscana per la sicurezza del lavoro prevede azioni di promozione verso le aziende virtuose che decidono di investire in salute e sicurezza. Grazie a tutti.